e questo evento adesso si chiama Cecaloni, ecco qua il dottore, è stato liberato e allora per ringraziare tutti vi ha offerto un dolcetto fate un applauso al dottor Cecaloni Cecaloni aspetta e facciamo dire qualcosa Disforzo, disforzo due parole c'ho solo da ringraziare il Signore che mi ha fatto tornare grazie 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 grazie